Meno tre gare al termine, il conto alla rovescia è iniziato, il primo campionato di Serie A del team calabrese sta per terminare. Nessuno può sapere adesso che finale ha in serbo il dio del calcio, ma di certo c'è che gli squali giocheranno queste tre gare al massimo come se fossero le più importanti della loro vita, anche perché forse lo sono. Il Crotoni viene da sei risultati utili consecutivi e non vuole fermarsi, ecco perché ci sarà da sbaragliare la difesa dell'Udinese domenica prossima per continuare a sperare. Ieri ancora allenamento presso la struttura del parco Ionio di Steccato di Cutro, lavoro in palestra e poi allenamento molto intenso in campo con possessi palla e partitelle sei contro sei. Tutti a disposizione e coinvolti in questa sessione, tranne Stoian ancora in ospedale, Nalini e Mesbacchiano accusato qualche linea di febbre, così come anche Sulic, quale ha rimediato una botta durante l'allenamento di martedì. Giovedì mattina è in programma la sessione all'uscita, come sempre a porte aperte. Stiamo seguendo il mister, stiamo facendo quello che ci chiede il mister, stiamo preparando molto bene questa partita, sappiamo l'importanza di questa partita, e quindi noi giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, ci impegniamo e ci mettiamo tutta per fare il risultato. Senz'altro noi dobbiamo continuare a guardare la nostra casa, noi dobbiamo continuare a fare i punti come stiamo facendo, noi dobbiamo continuare a fare quello che ci chiede il mister, dobbiamo continuare a fare bene come stiamo facendo ora. Poi, se gli altri perdono, ancora meglio. Speriamo di fare bene, fare tre punti anche domenica e speriamo nel passo falso delle altre due. Un modo di giocare con Teo al Chievo, conosco molto bene Matos, anche se sta giocando poco ultimamente, però tutto sommato è una buona squadra, sono salvati prima di ora, vuol dire che è una squadra forte, quindi noi dobbiamo cercare di usare le nostre armi e fargli male. Io anche sono arrivato qua che mi sono messo subito a disposizione di tutti, anche i ragazzi mi hanno aiutato tantissimo, mi hanno fatto sentire subito a mio agio. La Coppa Calabria, che ha visto di fronte le vincitrici dei due gironi di promozione, Cotronei e Soriano, è la vincitrice del campionato di eccellenza, l'Isola Caporizzuto, svoltasi domenica 7 maggio allo Stadio Sant'Antonio di Isola. Come da pronostico se l'è aggiudicata la compagine di casa, vittoriosa nella finale contro il Cotronei. Una finale quindi tutta crotonese, degna del valore delle due formazioni, che hanno dominato i rispettivi tornei e che, nonostante i festeggiamenti dei giorni scorsi, non hanno minimamente disdegnato durante l'incontro, foga agonistica e sprazzi di bel gioco. Alla fine, nel tribunio generale, in sostanza, hanno vinto tutti, così come è ribadito dal presidente regionale della FIGC, Saverio Mirarchi. Sì, è stata una bella giornata con le società nostre regine, dei campionati di eccellenza e promozione, quindi abbiamo visto oggi all'opera le nostre tre migliori realtà, doveva essere una giornata di festa e così è stato, complimenti ovviamente al Cotronei, complimenti al Soriano e all'Isola Capurizzuto per il campionato di eccellenza e per la Supercoppa che ha conseguito oggi. Da quello che si è visto in campo, si è capito che possono ben figurare nei rispettivi campionati appena acquisiti, entrambe, anzi tutte e tre le formazioni? Beh, direi di sì, sono le due migliori realtà del campionato di promozione, quindi diciamo che sono già quasi pronte per affrontare il campionato di eccellenza, sebbene c'è un gradino ed è un gradino importante tra le due categorie, e lo stesso dicasi per l'Isola Capurizzuto, che è già proiettata verso il campionato di Serie D, dove mi auguro che riuscirà a rappresentare nel miglior modo possibile la nostra terra, la Calabria. Grazie per i complimenti, è vero, siamo pure noi, rosso-blu come il Crotone, quindi abbiamo onorato questo campionato con una grande vittoria, che penso che è stata una sorpresa, siamo stati una sorpresa del campionato. Oggi sinceramente siamo venuti giusti per onorare questo triangolare, perché la squadra da domenica dopo la vittoria di Aurora Reggio abbiamo fatto una settimana di riposo, siamo venuti giusti per fare questa festa, perché penso che siamo tutti e tre vincente del campionato, quindi è stata una giornata di festa e di sport, quindi complimenti, voglio ringraziare l'Isola, tutta la società perché ci ha fatto questo invito, e quindi niente, ci guardiamo questa vittoria di campionato e pensiamo da domani in poi a cosa bisogna fare per il futuro. Per quel poco che capisco io di calcio, ho visto una bella squadra messa in campo, le faccio i complimenti, adesso raggiungere un traguardo così importante come la promozione in eccellenza, se non si gioca bene non si può arrivare. Vabbè, questo sì, sicuramente, una squadra che vince il campionato, c'è un motivo, c'è qualcosa che abbiamo fatto, vabbè, i numeri parlavano chiaro, avevamo fatto quasi 90 gol, una squadra che ha pensato sempre nel giocare la palla, l'ha dimostrato oggi, e guarda a casa che poi è capitato pure che abbiamo giocato due volte contro Vento, dove un pochettino abbiamo sofferto. Non abbiamo sfigurato con l'Isola, che è un'ottima squadra, solo che noi magari non abbiamo quella esperienza, quella furbizia che c'è all'Isola, però tutto sommato sono soddisfatto. Io sapevo che la squadra si esprimeva in questo modo, perché dall'inizio del campionato, la maggior parte delle partite in casa, noi li facciamo con questi ritmi, che la gente veramente si è divertita. Io ancora con la società non ho parlato, loro sì, stanno facendo tutto per farmi rimanere, però prima devo chiarire alcune cose, perché giustamente è una società nuova, vediamo un pochettino, se mi ascoltano io penso che potrei pure rimanere. E qualora dovesse rimanere, come intende proporsi questo campionato che per la prima volta vede il contro nei protagonista? Non c'è niente da cambiare, secondo me è da riconfermare tutta la squadra e prendere tre pedini fondamentali, uno in difesa, uno a centrocampo e uno in avanti, poi in base se qualche ragazzo rimane oppure dovrebbe andare via andiamo a prendere qualche altro ragazzo, però la squadra non si muove, sarà riconfermata tutta, perché già fa un gioco spettacolare e gioca a memoria, l'abbiamo dimostrato oggi e come l'abbiamo dimostrato pure durante il campionato. Se mi ascoltano e se riusciamo a prendere queste tre pedine fondamentali io penso che possiamo fare una buona figura in eccellenza. Dopo aver conquistato il titolo italiano dei Pesivelter, Tobia Loriga sarà chiamato a difenderlo nel prossimo giugno. Tobia Loriga è stato sfidato dal giovane pugile Dario Morello, calabrase d'origine, ma con dimora a Bergamo. L'incontro è il 16 giugno a Bergamo, a casa sua, diciamo, anche se lui è un ragazzo calabrese, però vive e si allena a Bergamo, organizzato dalla sua società, perché hanno vinto l'asta. La conferenza stampa dei giorni scorsi presso la sala consigliare del comune di Crotone è stata indetta proprio per dare questa notizia a tutti gli sportivi. La federazione pugilistica italiana ha nominato lo spianto ufficiale che Dario Morello, un ragazzo di 16 anni più piccolo di me, è imbattuto da molti, dicono che è la promessa delle nuove leve, diciamo. A me questo incontro mi stimola tanto perché combattere con un ragazzo di 16 anni più piccolo di me mi stimola perché a 40 anni ancora, vado per i 41, ancora sono a questi livelli, sono campione d'Italia e questi incontri mi stimolano tanto. Adesso mi sto preparando, come al solito, col massimo della serietà e vedremo, vedremo un pochettino cosa succederà. Niente riposo dunque per il quarantenne Tobia che il 16 giugno sarà dunque chiamato ad affrontare un incontro più difficile rispetto a quello che gli ha consegnato il titolo lo scorso 3 marzo. Sì, io dopo una settimana sono dovuto tornare in palestra ahimè perché dico ahimè perché avrei voluto un pochettino riposarmi un pochettino di più perché come ho già detto a 40 anni la fase di recupero è molto diversa di un ragazzo di 25-26 anni. Però questo è il regolamento della federazione pugilistica italiana mi ha imposto questo avversario da hanno dato 90 giorni dall'incontro perché di solito passa un bel po' di tempo in più però siccome il doping è arrivato subito il risultato del doping perché dopo 90 giorni che arriva il risultato del doping bisogna effettuare il titolo italiano questo doping è arrivato subito stranamente e quindi hanno indetto subito questa sfida secondo me questo qua è molto più forte di Sposito non perché voglio dire che Sposito era scarso Sposito era il campione d'Italia però questo ragazzo lo conosco lui la sua famiglia era il titolare della nazionale italiana ha vinto gli assoluti ha sfiorato le Olimpiadi è un ragazzo promettente è imbattuto pugisticamente lo conosco secondo me sarà un match molto più difficile di quello di Sposito